Tra tutte le carte prepagate disponibili sul mercato italiano, la carta PostPay è sicuramente una delle più diffuse e conosciute. Si tratta di una carta che ci permette di fare acquisti su internet e nei negozi fisici con molta facilità. Inoltre, possiede un portale online e un'app per tablet e smartphone che rende le operazioni molto semplici. Per fare una ricarica possiamo utilizzare l'app Banco Post Online, l'app per telefoni o tablet oppure recarci presso un ATM Postamat o anche in un ufficio delle poste italiane. Ricordiamo però che questa carta presenta anche dei limiti di ricarica, essendo una carta prepagata e in questo video parleremo proprio di questo. Ora andiamo a vedere le tipologie di limiti sulla carta PostPay. Quando si parla dei limiti di ricarica delle carte prepagate PostPay bisogna ricordare che si fa riferimento all'importo massimo ricaricabile in tre ambiti diversi. Il limite di ricarica giornaliero, che corrisponde all'importo massimo giornaliero che può essere depositato sulla carta prepagata per ricaricare il credito disponibile. Il limite di ricarica annuale, che si tratta della cifra massima totale che può essere depositata sulla carta prepagata PostPay nel corso dell'intero anno e sommando le varie ricariche l'importo risultante deve essere sempre inferiore al limite previsto. Se si supera la somma massima fissata la ricarica viene annullata. Infine l'importo massimo depositato, che corrisponde alla cifra massima che può essere tenuta sulla carta. In secondo luogo nel corso del tempo sono stati sviluppati e proposti alla cliente e le altre tipologie di carte ricaricabili emesse di poste italiane. Oltre alla versione standard sono presenti anche PostPay Junior e PostPay Evolution, a seconda di quale sia la carta prepagata prescelta, variano anche i limiti di ricarica massima. Questa caratteristica consente di poter optare tra differenti soluzioni in base a quali sono le proprie esigenze e il livello di operatività. Infine si sottolinea come i limiti di ricarica non possano essere negoziati e non sia possibile rimuoverli. Ricarica massima della PostPay Standard La versione PostPay Standard costituisce la carta prepagata ricaricabile di base che viene messa a disposizione degli utenti da parte di poste italiane. Sono previsti i seguenti limiti per le diverse tipologie di ricarica. 3000 euro come ricarica massima trasferibile in una singola operazione. In secondo luogo si ricorda che lo stesso ordinante, ovvero la persona che dispone il trasferimento di denaro, può eseguire non oltre due ricariche al giorno. Per aggirare quest'ultima restrizione è possibile far disporre la terza operazione di ricarica da un altro soggetto. 3000 euro come plafond massimo utilizzabile, cioè la cifra massima che può essere presente sulla carta prepagata e proprio per questo motivo non è possibile effettuare ricariche per somme che facciano superare il limite previsto. E infine 50.000 euro come ricarica massima annua. Questo limite deve essere calcolato in senso globale per tutti i prodotti emessi da poste italiane, considerando tutte le carte che hanno lo stesso titolare. Ricarica massima della poste pay junior. Poste pay junior è la versione della carta prepagata ricaricabile che poste italiane mette a disposizione degli utenti che non hanno ancora compiuto 18 anni d'età, oppure che non possono sottoscrivere un rapporto contrattuale autonomo. In entrambi i casi il titolare deve ricevere l'avvallo dei genitori per poter richiedere il rilascio della carta prepagata poste pay junior. Questa soluzione di pagamento prevede 1000 euro come importo massimo giornaliero per le ricariche. Bisogna anche tenere a mente che i trasferimenti di denaro devono essere disposti accedendo alla propria area riservata su poste.it. Inoltre le condizioni contrattuali fissano un limite per singola operazione. Infatti la ricarica massima è di 500 euro. 1000 euro inoltre come plafond massimo utilizzabile. Il deposito sulla carta prepagata non può superare questa cifra. Infine 50.000 euro come ricarica massima annua. Anche in questo caso la somma fa riferimento al totale delle ricariche di tutte le carte poste pay che sono state intese dallo stesso utente. Intestate dallo stesso utente. Ora vediamo la ricarica massima delle poste pay evolution. Poste pay evolution è la carta prepagata ricaricabile di poste italiane che garantisce i limiti di ricarica più alti. Proprio per questo motivo risulta essere la soluzione migliore per gli utenti che necessitano di uno strumento di pagamento grazie al quale movimentare importi in un certo rilievo in funzione di un'operatività elevata. I limiti di ricarica massima sono di 3000 euro come importo trasferibile per singola operazione. anche in questo caso viene fissato il limite di due ricariche al giorno per ordinante. Risulta essere possibile superare l'inconveniente facendo disporre altre ricariche da soggetti terzi. Inoltre abbiamo un tetto un plafond massimo di 100.000 euro. 100.000 euro come ricarica massima annua altrettanto e si tratta di un importo doppio rispetto a quanto previsto per le altre carte prepagate di poste italiane. La cifra massima deve essere considerata nell'insieme delle carte messe da poste italiane e detenute dallo sito titolare. Vi ringraziamo per aver visto questo video e vi ricordiamo che nel nostro canale abbiamo tantissimi video sulle carte prepagate e le carte di credito disponibili in Italia. Ci vediamo al prossimo!